Ehi, Mina, c'è qualcuno che ti piace? Oppure no? Non mi viene in mente nessuno, no? Capisco. Mi sembra giusto. Allora, chi è il tuo tipo? E cosa ti piacerebbe in loro? Oh, chiedissima! Vogliamo parlare d'amore? D'accordo! Per me, la cosa più importante è che sia forte, ma deve sapere essere anche infantile. Può essere un po' birbantello, ma che sia comunque al mio fianco. Qualcosa così! E poi deve essere anche misterioso, con qualsiasi cosa dica. Non è un po' troppo. E ciò ci porta al fascino d'Arc. Ora stai solo aggiungendo roba. Ah, allora che ne diresti di me? L'essere infantile birbante potrebbe non essere il mio forte. Ma diventerò più forte e starò al tuo fianco. Quindi, mi chiedo se io vada bene. Aspetta un secondo, chi risci, ma... Mi hai fatto sobbalzare il cuore là, sai? Ti sei tinte e capelli e sei entrato alle superiori, ma... C'è ancora tanta strada da fare, chi risci, ma... E riguardo all'essere figo o carino... Sì, sì, devi ancora farne di strada. È ok, è ok. Sì, sei sempre un ottimo ragazzo, ma... È un po'... Mi... Mi chiedo a cosa stia succedendo. È davvero una sorpresa. Chi risci, ma non... Non sei del tutto... Adatto. Cosa... Non so quando... Compierò questa promessa. Così come non lo sa nessuno. Dicono... Che sono una testa calda. Ma... Un giorno voglio essere fiero di ciò che faccio. È per questo che... Diventerò un hero. A qualunque costo. Aspettami e vedrai. Eeeh? Eh? Assolutamente no. Non aspetterò mica, sai? Perché diventerò forte anch'io. Sarò un hero dopo tutto. Oh... Capisco. Hai... Hai ragione. A proposito... Chirissima? Mh? Non ti piace davvero nessuno? Eh? No, io... Ma... Ma che cosa dici? Eeeh? E allora cos'era quella reazione? Te... Te lo sapevi già? No! Non lo so. Non me lo hai detto, mio bel buono a nulla? Beh... Sarebbe... Sai... Un... Un... Una... Merio... A... And... Come. In...